Hegel ha spiegato molto bene l'importanza del lavoro, in particolare nella fenomenologia dello spirito, soprattutto osservendosi della figura di signore e servo, in cui è ben visibile la capacità che il lavoro ha di operare un rovesciamento dialettico delle posizioni del signore e del servo. Negli anni successivi però, nel resto della sua produzione, non ha mai sviluppato le implicazioni rivoluzionarie di questa intuizione, anche perché queste implicazioni rivoluzionarie erano del tutto estranee alla visione politica dei suoi anni maturi, che era di orientamento assai conservatore. Chi invece trarrà dalla lezione hegeliana sul lavoro e sulla sua potenza dialettica un insegnamento decisivo e condurrà questo tema a esiti molto diversi rispetto a quelli hegeliani sarà Karl Marx. Nella sua lunga e minuziosa analisi delle caratteristiche del lavoro operaio nella fabbrica capitalistica, Marx mostrerà infatti che il concetto hegeliano di oggettivazione, che è un processo, come sappiamo, nel quale cediamo parte della nostra razionalità all'oggetto che stiamo formando ed esso, una volta realizzato, ci restituisce in un certo qual modo la razionalità che noi vi abbiamo infuso, questo concetto di oggettivazione per il lavoratore nella fabbrica capitalistica va sostituito con quello completamente diverso di alienazione. Nella fabbrica ottocentesca infatti, che più che un luogo di lavoro è un girone infernale in cui l'operaio è un semplice oggetto di sfruttamento intensivo, continuo e disumano, non si può più parlare di oggettivazione, cioè di trasferimento di razionalità nel prodotto del lavoro, ma soltanto di alienazione del lavoratore che è ridotto ad una bestia da soma ancorché dotata di intelligenza. All'origine di ogni forma di alienazione umana ci sono, secondo Marx, le contraddizioni che sono presenti nella vita materiale degli uomini, a cominciare proprio da quelle che sono presenti e operanti nell'attività del lavoro. Secondo Marx il lavoro è certamente espressione dell'uomo che realizza se stesso trasformando la natura secondo i propri progetti, cioè oggettivandosi, come abbiamo detto poc'anzi, in essa e umanizzandola. In questo l'uomo si differenzia dagli animali costruttori come per esempio il castoro, l'ape, la formica. Questa operazione la fa insieme agli altri uomini, perciò Marx parla di dimensione sociale del lavoro umano. Ecco cosa dice Marx a questo proposito. Il ragno compie operazioni che assomigliano a quelle del tessitore, l'ape fa vergognare molti architetti con la costruzione delle sue cellette di cera, ma ciò che fin da principio distingue il peggior architetto dall'ape migliore è il fatto che l'architetto ha costruito la celletta nella sua testa prima di costruirla sulla cera. Alla fine del processo lavorativo emerge, ci dice Marx, un risultato che era già presente al suo inizio nell'idea del lavoratore, che quindi era già presente idealmente, un passo molto famoso dal primo libro del Capitale. Tuttavia, come Marx aveva rilevato già a metà degli anni 40 dell'Ottocento in un'opera intitolata Manoscritti economico-filosofici, nel mondo della fabbrica capitalistica l'uomo non esprime la propria umanità nel lavoro, ma lavora esclusivamente per sopravvivere. Il lavoro è diventato per lui un'oppressione e esso è di fatto sottratto all'uomo, dice Marx. Questa condizione tragica e paradossale viene definita proprio nei manoscritti economico-filosofici da Marx alienazione del lavoro e riguarda quattro aspetti che io ho provato qui a sintetizzare. Riguarda il prodotto del lavoro, riguarda l'attività di lavoro, riguarda l'essenza umana, riguarda il rapporto con gli altri uomini, cioè il capitalista e i compagni di lavoro. Vediamole una per una. Il lavoro inteso come prodotto è sottratto all'uomo perché l'operaio non possiede né la materia prima, né gli strumenti, né pure il risultato del lavoro finito. Quindi il prodotto che lui si è svenato, si è sfiancato a realizzare, diventa così una realtà per lui estranea e ostile. Infatti per le leggi economiche del capitalismo tanto più il prodotto diventa ricco, possiamo dire, grazie al lavoro umano che vi è stato profuso, tanto più l'operaio che vi ha lavorato e si è sfiancato diventa povero perché si è sfinito per realizzarlo. Vediamo il secondo aspetto. Nel lavoro inteso come attività nella fabbrica capitalistica l'uomo non si afferma, cioè non esprime la sua creatività, la sua progettualità, ma si nega. L'uomo di conseguenza si sente se stesso, cioè essere razionale, solo fuori dal lavoro e paradossalmente si sente uomo invece nelle funzioni che lo accomunano alle bestie, come quella di riprodursi, come quella di mangiare. Ancora, con l'alienazione sono infine sottratti all'uomo la sua stessa essenza, Wesen, dice Marx in tedesco. Perché? Perché come abbiamo detto ciò che lo caratterizza come uomo è il lavoro libero e creativo, ma nella fabbrica capitalistica l'uomo invece è un mero esecutore forzato di progetti altrui che spesso egli neppure conosce. Da ultimo anche il rapporto con gli altri uomini è nella fabbrica capitalistica un lavoro alienante. In essa infatti gli uomini sono costretti ad un continuo rapporto conflittuale tra capitalista e lavoratori, oppure tra capoturno e suoi subordinati. E anche quando il lavoratore lavora ha sempre un occhio a quello che fa il suo compagno, il suo vicino, perché se il suo vicino lavora più di lui e produce più rapidamente c'è il rischio che se c'è qualcuno da licenziare lo licenzi, licenzino lui che lavora un po' meno, che non riesce a stare al ritmo piuttosto che altro. Quindi è alienante anche da questo punto di vista. C'è questa bellissima pagina dei manoscritti economico-filosofici, il paragrafo 23, in cui Marx dice tutto questo in una maniera mirabile. Nella fabbrica capitalistica il lavoro è esterno all'operaio, cioè non appartiene al suo essere, e quindi nel lavoro egli non si afferma, ma si nega, si sente non soddisfatto ma infelice, non sviluppa una libera energia fisica e spirituale, ma sfinisce il suo corpo e distrugge il suo spirito. Perciò l'operaio solo fuori dal lavoro si sente presso di sé e si sente fuori di sé nel lavoro. È a casa propria se non lavora e se lavora non è a casa propria. Il suo lavoro quindi non è volontario, ma coatto, è un lavoro forzato. Non è quindi il soddisfacimento di un bisogno, ma soltanto un mezzo per soddisfare bisogni estranei. La sua estraneità si rivela chiaramente nel fatto che non appena avviene meno la coazione fisica, l'obbligo fisico o qualunque altro obbligo, il lavoro viene sfuggito come la peste. Il lavoro esterno, il lavoro in cui l'uomo si aliena, è un lavoro di sacrificio di se stessi, di mortificazione. Ho pensato, per chiudere in un'icona questo tema dell'alienazione del lavoro nella fabbrica capitalistica, a questo fermo immagine tratto da un formidabile film di Charlie Chaplin degli anni 30, in cui un lavoratore alienato, in modo tale che la pausa di lavoro per mangiare a metà mattina sia il più breve possibile, viene addirittura alimentato da una macchina che lo ingozza il più rapidamente possibile affinché egli possa tornare a lavorare e a produrre il più velocemente.